Ciao, c'è una pistola? Ehi, è un'aria silenzio. Devi parlare sottovoce qui, caro. Una pistola? Parlami. Sono pronto. Una nuova e migliorata versione di me. Perché se nel mondo semini pace, avrai pace in cambio. Stai dimenticando cosa fai tu per vivere. Prendi la pistola. Ogni lavoro che faccio muore qualcuno. Non sono più quell'uomo. In certi casi ci vuole una pistola. Ehi, che carino. Ok, cosa devo rubare e o sottrarre? Una valigetta. Volevi una cosa facile per il tuo rientro al lavoro. Questa è facilissima. Mi hai pugnalato? Rovinerò la tua vita come tu hai rovinato la mia. Un ragazzo non sa nemmeno chi sei. Non c'è niente di facile in questo lavoro. C'è qualcosa sotto. Sì. Non sono l'unico sul treno che cerca la valigetta. Lemon. Dov'è la valigetta? Oh, l'ho nascosta. Era proprio qui. Siamo in perfetto orario. Tutto ciò che ti è successo finora. Divuco, stronza! Ti ha condotto qui. Destino. Bell'affare del cazzo. Oh, no, grazie. Senta, per caso avete qualcosa di frizzante? Questo volevo. Grazie, domo arigato. Sicuro che non vuoi parlarne? No, francamente no. Ok. Ok. Oh, no, grazie. edu. Grazie a tutti.